buongiorno a tutti io sono andrei credo prima di vedere questo video mettete un like iscrivetevi e suonate la campanella come sempre no ora sapete cosa giochiamo ci chiamo a clash real come sempre avete visto che oppure ha fatto un altro video sbagliato farlo che non mi era scritto e quindi niente lo devo fare da capo comunque ho trovato la manco il fiero questo scheletro gigante fai gli spetti qua c'è la sfida sono sfide tornei eventi speciali la guerra voglio io però usciamano questo cranno allora ok ci siamo uniti ah ah sbagliato a scrivere wrecka ho un visualizzato ho difficoltà a leggere comunque io non ne ho giganti no, non ne ho ne devo comprare se c'è comunque no sapete cosa facciamo ora facciamo una bella battaglia però prima vediamo facciamo prima tre battaglie per vedere se riusciamo a salire di top ok facciamo così così nooo non neanche qualcosa vetrofesto che bello che bello la firebox troppo bello non devo stare visto io ce l'ho all'otto e tu l'alsei ma va va ma ti caga queste parole non si dicono andrei allora 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 mettiamo questo a chresi mi chresi mi a parlare, ahideic a cosa? davai ma che c'è il trucco il telefono e 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 come vedete questo scudetto è bellissimo e comunque ora ci chiamo questo vediamo cosa c'è di interessante andiamo qui andiamo a fare un bel mazzo qui e qui qui e qui ok 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 verificalo verificalo poi facciocolo facciamolo altre eccolo qua ragazzi si si è fatto quindi ora c'è c'è un sito bellissimo che si chiama tech stop tech shop ma avete capito ragazzi ve lo dico per la seconda volta mettete un like iscrivetevi e suonate la campanella ciao 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 Grazie. 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 Grazie.